Catturato a banda delle spaccate di Lentina e Francofonte, il CNA esprime soddisfazione. Un grande applauso alle forze dell'ordine della magistratura che con tempi rapidissima ha individuato e arrestato gli autori dei furti con spaccata che hanno terrorizzato in presa i cittadini di Lentina e Francofonte. Lo dichiarano Rosanna Magnano e Gian Paolo Micelli, rispettivamente Presidente Territoriale e Secretario Provinciale del CNA Siracusa. Questa brillante operazione è la dimostrazione che nessuno può sentirsi impunito e che lo Stato è presente nel nostro territorio attraverso donne e uomini delle istituzioni altamente specializzate. Proseguono i vertici della Confederazione CNA Siracusa che continuerà a chiedere un presidio di sicurezza anche in altre aree specifiche recentemente balzate all'attenzione delle croniche per furti perpetrati con lo stesso devastante metodo come Palazzola Crede e la zona nord della provincia. La scelera risposta dello Stato, concludono Magnano e Miceli, lo spieghiamo diventa una sorta di automatica dissuasione da qualsiasi tipo di emulazione rispetto degli imprenditori che operano e arricchiscono il tessuto economico locale.